Le trasformazioni chimiche, ovvero quelle in cui determinate sostanze di partenza o reagenti si trasformano in altre o prodotti, si chiamano più propriamente reazioni chimiche. Durante una reazione chimica, i legami che tengono insieme le molecole dei reagenti vengono spezzati e se ne formano di nuovi. Il numero complessivo degli atomi coinvolti rimane lo stesso, ma questi si ricombinano in maniera diversa per formare molecole e quindi sostanze diverse da quelle di partenza. Qui vediamo che una reazione chimica viene schematizzata utilizzando le formule e quella che si chiama equazione chimica, che vediamo scritta in alto. Sulla parte sinistra scriviamo le formule dei reagenti. Da queste vediamo che parte una freccia, di seguito alla quale si indicano le formule dei prodotti di reazione. Quella che qui vediamo è una reazione di ossidazione, ovvero di combustione, ed è una reazione che vediamo molto comunemente ogni volta che noi accendiamo un fornello a gas, in seguito alla quale il gas della bombola, che è il metano CH4, si combina con l'ossigeno dell'aria per generare le due sostanze dalle formule molto note che vediamo a destra, ovvero anidride carbonica e acqua. Questa che vediamo qui sotto è l'equazione chimica di questa reazione, chiamata anche combustione perché le reazioni con l'ossigeno, il quale reagisce con tantissime sostanze, in quanto è di per un gas piuttosto aggressivo, spesso liberano anche notevoli quantità di energia. Vediamo scritto qui sotto che le reazioni chimiche devono sottostare ad una legge molto importante, scoperta dal chimico francese Antoine Lavoisier, ovvero la legge di conservazione della massa, la quale legge ci dice che in una reazione chimica le masse dei reagenti e dei prodotti di reazione si conservano, quindi la massa complessiva dei reagenti è uguale a quella complessiva dei prodotti di reazione. Per questo motivo, in questa equazione particolare, accanto a due delle sostanze coinvolte, ovvero le formule di due delle sostanze coinvolte, l'ossigeno come reagente e l'acqua come prodotto, sono precedute da un numero scritto in grande, che è chiamato coefficiente di reazione. Questo perché la legge di conservazione della massa non riguarda soltanto le masse di reagenti e prodotti, ma anche il numero di atomi complessivo che li formano, ovvero durante una reazione chimica non devono sparire atomi o comparire dal nulla atomi di qualche elemento, perché gli atomi semplicemente si disgregano, nel senso che i legami vengono spezzati nei reagenti e si ricombinano in maniera diversa a formare i prodotti di reazione. Quindi l'uguaglianza tra le masse di Lavoisier diventa un'uguaglianza nel numero di atomi di ogni elemento tra reagenti e prodotti. Questo lo possiamo vedere meglio visualizzando la stessa reazione, ovvero quella di combustione del metano, però rappresentando come dei cerchi colorati i vari atomi, tipo di rappresentazione che abbiamo già utilizzato. In questo caso gli atomi di carbonio li abbiamo rappresentati in nero, quelli di idrogeno in bianco e naturalmente più piccoli, essendo l'atomo più piccolo e più leggero tra tutti gli elementi, e l'ossigeno in azzurro. Vediamo quindi che al fine di conservare la massa e il numero di atomi, una molecola di metano reagisce con due molecole di ossigeno, in modo da dar luogo come prodotti ad una molecola di anidride carbonica e due di acqua. In questo modo vediamo che il numero complessivo degli atomi di ciascun elemento si conserva. L'unico atomo di carbonio del metano come reagente compare a destra nell'anidride carbonica. I quattro atomi di idrogeno del metano si sono ridistribuiti nelle due molecole di acqua, ciascuna delle quali ha due atomi di idrogeno. Le due molecole di ossigeno, ricordiamo che il gas ossigeno è formato da molecole biatomiche, O2, quindi in totale abbiamo in due molecole quattro atomi di ossigeno tra i reagenti. Questi quattro atomi di ossigeno ricompaiono tutti quanti nei prodotti di reazione, due nella molecola di anidride carbonica e altri due, uno per ciascuna molecola di acqua nei prodotti. Senza l'utilizzo dei coefficienti, ovvero senza raddoppiare il numero di molecole di ossigeno nei reagenti e di acqua nei prodotti, non avremmo visto la conservazione del numero di atomi, perché ad esempio sarebbe comparso dal nulla un atomo di ossigeno, ne avremmo avuti due a sinistra e tre a destra. Stessa cosa per ciò che riguarda gli atomi di idrogeno, ovvero avremmo visto sparire due atomi di idrogeno. Una equazione chimica scritta in questo modo, con i coefficienti che mantengono invariato il numero di atomi, è detta equazione chimica bilanciata. Allo stesso modo, quest'altra reazione chimica, che è quella della fotosintesi, uno dei processi biologici più importanti che esistono in natura, fondamentale per l'esistenza di tutta la vita sulla Terra, bene, l'equazione chimica che la rappresenta è quella che vediamo qui scritta in grassetto. Sei molecole di anidride carbonica e sei molecole di acqua, tramite l'azione di luce e clorofilla, vengono trasformate dalle piante autotrofe in una molecola di glucosio, questa è la formula, come si dice grezza, cioè che rappresenta solo il numero di atomi di ogni elemento del glucosio e vengono sviluppate sei molecole di ossigeno. Se fermate un attimo il video per fare i conti di atomi di ciascun elemento, vedete che questi conti tornano. Abbiamo i sei atomi di carbonio delle sei molecole di anidride carbonica che entrano a far parte della molecola di glucosio che appunto ha sei atomi di carbonio. I dodici atomi di idrogeno delle sei molecole d'acqua si conservano perché finiscono tutti e dodici nella molecola di glucosio. Per quanto riguarda l'ossigeno, in totale abbiamo diciotto atomi, sei per due dalla anidride carbonica che fa dodici, più altri sei delle sei molecole d'acqua. Di questi diciotto atomi di ossigeno, sei finiscono nella molecola di glucosio e gli altri dodici nelle sei molecole di ossigeno che vengono liberate come scarto. Moltissime reazioni chimiche avvengono senza che neanche ce ne accorgiamo, come i miliardi di reazioni chimiche che avvengono in ogni cellula del nostro corpo durante ogni minima frazione di secondo. Tuttavia ce ne sono alcune che avvengono invece in maniera molto evidente sotto i nostri occhi. Ne vediamo adesso alcuni esempi. Un esempio di reazioni chimiche molto evidenti sono quelle in cui mescolando oppure sciogliendo un solido in un liquido le due sostanze reagiscono sviluppando un gas. Vediamo ora la reazione del bicarbonato con l'aceto, o bicarbonato di sodio per meglio dire con l'aceto, che è una reazione acido base. Il palloncino contiene bicarbonato. Nel momento in cui questo cade nella bottiglia contenente aceto si sviluppa un gas, l'anidride carbonica. Come vediamo il palloncino legato al collo della bottiglia si inizia a gonfiare e il liquido nella bottiglia diventa effervescente proprio per lo sviluppo di un gas. Questo è un esempio di reazione molto evidente ai nostri occhi. Un'altra reazione che avviene in maniera molto evidente sotto i nostri occhi, quindi con un cambiamento molto ben visibile, è quella che vediamo nell'immagine centrale, ovvero mescolando due soluzioni di un solido solubile in acqua, ovvero due soluzioni trasparenti, i due soluti reagiscono tra di loro formando una nuova sostanza, stavolta insolubile, per cui vediamo, mescolando le due soluzioni, che inizia a comparire quasi come per magia una sostanza in polvere in acqua, nell'acqua, sostanza in polvere che in questo caso addirittura è gialla, addirittura è colorata, che prima non era visibile e che precipita sul fondo. Una reazione di questo tipo è chiamata reazione di precipitazione. Il solido insolubile che si forma dalla reazione e precipita sul fondo è chiamata anche precipitato. Passiamo all'immagine a destra. Altre reazioni chimiche che sono particolarmente evidenti sono quelle che comportano un cambiamento di colore. Tra poco ne parleremo parlando di indicatori acido-base. Qui vediamo delle sostanze che sono in grado quindi di assumere tutti i colori dell'arcobaleno. Ne riparleremo tra poco. Però una reazione di questo tipo la vediamo molto facilmente a casa quando prendiamo del tè, che è un liquido, come sappiamo che è un colore marrone scuro, e adesso aggiungiamo del succo di limone. Si verifica una reazione chimica che fa diventare il liquido molto più chiaro, di una tonalità tendente al giallo. Alcune di queste reazioni, anche molto evidenti, si possono riprodurre tranquillamente a casa o in un'aula scolastica. Ce ne sono altre, che vediamo in animazione tra poco, altrettanto spettacolari, ma che necessitano di precauzioni e quindi sono un po' difficili da riprodurre in maniera casalinga, anzi, non è assolutamente consigliato. Le possiamo vedere però in questo bel formato video. Una di queste prende il nome caratteristico di dentifricio dell'elefante. Come vedete, facendo reagire queste sostanze, esce questa gran quantità di schiuma, la quale è bollente per cui bisogna anche allontanarsi. Vediamo adesso un'altra reazione molto pericolosa che si ottiene aggiungendo a dello zucchero in polvere dell'acido solforico. Assistiamo infine a una reazione che si ottiene bruciando determinate sostanze in polvere. Ecco, vediamo che in maniera così magica, possiamo dire spettacolare, si forma questa specie di serpentone, a partire da una semplice polvere bianca, tramite una semplice reazione di combustione. Questo tipo di reazione ha preso dei nomi anche piuttosto fantasiosi, tra cui quello di serpente dell'imperatore o serpente del faraone. Un'importante categoria di reazioni chimiche è costituita dalle reazioni acido-base, in quanto, seppur non tutte, gran parte delle sostanze conosciute possono essere inserite in una delle due categorie, ovvero nella categoria degli acidi oppure in quella delle basi. In quest'immagine vediamo degli esempi di acidi. Gli acidi sono delle sostanze che hanno tipicamente sapore aspro. In ogni caso, quando noi andiamo in un laboratorio e vediamo una soluzione in colore, sicuramente la cosa migliore da fare non è assaggiarla, ma utilizzare, come vedremo, altri tipi di analisi. Infatti esistono degli acidi forti, come l'acido cloridrico e solforico, che sono corrosivi e molto pericolosi anche da maneggiare. Per contro ci sono degli acidi cosiddetti deboli, in particolare quelli organici, quelli di origine biologica, presenti comunemente sulle nostre tavole, come il succo di agrumi, di limone o i succhi di frutta in generale, oppure l'aceto. Gli acidi tipicamente contengono degli atomi di quegli elementi che si chiamano non metalli e si ottengono dalla reazione tra non metallo, ossigeno ed acqua, come l'acido solforico, oppure per reazione di un non metallo con l'idrogeno, come l'acido cloridrico. Qui invece vediamo alcuni esempi delle sostanze note come basi. Le basi hanno di solito un sapore molto più sgradevole rispetto agli acidi, infatti hanno un sapore tipicamente amaro. Anche in questo caso è meglio però non assaggiarle, anzi è assolutamente sconsigliato, perché le basi cosiddette forti, come la soda caustica, causano delle forti bruciature, molto pericolose, da cui l'aggettivo caustico, e sono pericolose da maneggiare al pari degli acidi forti. Tra invece le basi deboli comunemente usate c'è il bicarbonato di sodio. A differenza degli acidi, le basi, almeno quelle inorganiche, contengono tipicamente atomi di elementi metallici e tipicamente si ottengono facendo reagire un elemento metallico con ossigeno ed acqua, come la soda caustica, chiamata anche idrossido di sodio. Ricordiamo che il sodio è un elemento che appartiene al gruppo dei metalli alcalini e le sostanze basiche sono anche chiamate sostanze alcaline. Esistono tuttavia basi che non contengono atomi di ossigeno nella molecola, come ad esempio l'ammoniaca, che è formata da un atomo di azoto legato a tre atomi di idrogeno. Abbiamo parlato di reazioni acido-base, perché quando un acido viene a contatto con una base, avviene una reazione che porta alla formazione di un prodotto il quale viene detto genericamente un sale. E di solito, ma non sempre, è una sostanza neutra, ovvero una sostanza né acida né basica. Qui vediamo un'equazione chimica. Se contiamo gli atomi degli elementi, vediamo che non abbiamo bisogno di aggiungere dei coefficienti, di raddoppiare molecole, perché vediamo che è perfettamente bilanciata. Il conteggio lo potete fare tranquillamente da voi. E qui vediamo una reazione tra un acido forte, l'acido cloridrico, il quale è noto commercialmente come acido muriatico, e la soda caustica, quindi una reazione che deve avvenire in condizioni controllate e con particolari protezioni, perché sono due sostanze molto pericolose. Vediamo che i prodotti di reazione sono semplicemente il cloruro di sodio, ovvero il comune sale da cucina, e una molecola di acqua. ovviamente non è questo il modo migliore per produrre il sale. Genericamente, in ogni caso, anche se questo è il sale per eccellenza, il prodotto della reazione fra un acido e una base, almeno in campo inorganico, è detto, come ho detto genericamente, un sale ed è formato dall'unione dell'elemento metallico con quello non metallico. Inoltre, se avete ascoltato il video e la lezione sui composti chimici, un sale è un esempio tipico di composto ionico. Gli acidi e le basi non sono sostanze di norma di per sé colorate, e quindi una soluzione di un acido o di una base in acqua è tipicamente trasparente, allo stesso aspetto dell'acqua liquida. Come detto, il modo migliore per individuare l'acidità o la basicità di una soluzione non è assaggiarla, in quanto la sostanza ignota potrebbe essere un acido o una base forte, quindi una sostanza che non va assolutamente ingerita. Per individuare l'acidità o la basicità di una soluzione ci vengono per un aiuto gli indicatori chimici, che danno luogo ad una reazione cromatica, ovvero una di quelle reazioni, come detto prima, che sviluppano un colore. La maggior parte di questi indicatori chimici, qui ne vediamo due esempi, sono bicolori, ovvero assumono due possibili colorazioni, una in presenza di un acido e un'altra in presenza di una base. Questo è il caso dei primi due che vediamo in questa immagine. Chiaramente per ogni indicatore dobbiamo andare a vedere qual è il codice dei colori, perché ogni indicatore assume colorazioni diverse. Il primo che vediamo qui rappresentato assume colore rosso se sciolto in una soluzione acida e colore giallo se sciolto in una soluzione basica. Viceversa, il secondo che andiamo a vedere assume colorazione gialla a contatto con acidi e blu a contatto con le basi. Si tratta di indicatori bicolori, ora i numeri rappresentano i valori di pH, tra poco andremo a vedere di che cosa si tratta. È un qualcosa che serve a quantificare la forza di un acido di una base. Varia da 0 a 14, il 7 corrisponde alla neutralità, in corrispondenza di cui questi indicatori bicolori assumono la colorazione esattamente intermedia. Arancione, il primo indicatore, e verde, la seconda. Di conseguenza, se in una soluzione di un acido forte, di cui non conosciamo la concentrazione, ad esempio di acido cloridrico, in cui abbiamo sciolto alcune gocce di indicatore, facciamo cadere goccia a goccia una soluzione di una base forte a concentrazione nota, quando la reazione si è completata, ovvero quando tutto l'acido ha reagito, assistiamo al repentino viraggio, ovvero cambiamento di colore dell'indicatore. Questo procedimento si utilizza per determinare la concentrazione di soluzioni acide o basiche e si chiama titolazione. In basso vediamo un esempio di indicatore unicolore, ovvero che assume una colorazione, in questo caso di un rosa carico, soltanto in presenza di una base. In questo caso, che cosa vediamo svolgendo un procedimento di titolazione? Che nel momento in cui ha reagito tutto l'acido o tutta la base a concentrazione inizialmente non nota, inizia a comparire l'unico colore dell'indicatore all'inizio con una sfumatura molto tenue. In alcuni casi, però, non ci accontentiamo di determinare semplicemente se una soluzione è di un acido o di una base, ma abbiamo bisogno, per alcune applicazioni, di una maniera per quantificare la forza di un acido o di una base in maniera un pochino più precisa, ad esempio per scoprire se siamo in presenza di acidi o basi forti oppure deboli. Per questo vediamo che la forza degli acidi e delle basi si misura tramite quella che vediamo rappresentata in questa immagine, che si chiama la scala del pH, la quale è costituita da un intervallo di 14 valori, sono possibili anche i decimali, quindi ad ogni soluzione con proprietà acide o basiche assegna un numero che può variare da 0 a 14. Gli acidi hanno valori che sono inferiori a 7, quelli più vicini a 0 sono gli acidi più forti e pericolosi. Gli acidi deboli, quindi vediamo qui un po' l'acido solforico, l'acido cloridrico hanno valori pari a 0, 1. Poi abbiamo gli acidi invece che troviamo sulle nostre tavole come i succhi di limone, i succhi di frutta, il succo di pomodoro, l'aceto, cano di pH compresi fra 2 e 5. Il valore di 7 rappresenta il valore della perfetta neutralità, che noi troviamo nell'acqua ma soltanto nell'acqua distillata, perché quella di rubinetto per contro è leggermente acida in quanto contiene anidride carbonica disciolta che reagisce in acqua formando il debole acido carbonico. Quindi l'acqua di rubinetto in realtà è leggermente acida. Le sostanze che hanno valori di pH superiore a 7 sono sostanze invece basiche. Anche in questo caso si va da basi deboli e non pericolose, anzi che possiamo bere come il bicarbonato di sodio che ha un pH intorno a 9, via via che ci allontaniamo dalla neutralità troviamo basi più forti e decisamente più pericolose come i valori di pH tra 11 e 12 della candeggina e dell'ammoniaca e la soda caustica, una delle basi più forti che si conoscano con pH pari a 14. I colori che noi vediamo in questa tabella non sono colori casuali in quanto esiste un indicatore multicolore, il cosiddetto indicatore universale che assume tutti i possibili colori dell'arcobaleno e ci consente di fare una stima diretta del pH anziché limitarci come bicolori a dirci se la soluzione è semplicemente acida o basica. L'indicatore universale come quelli di tipo bicolore esiste in due forme, in forma di cartina che assume una colorazione se intinta nella soluzione oppure in forma liquida. Qui in alto a sinistra vediamo la leggenda che c'è nelle confezioni di cartine all'indicatore universale che sono graduate che associano ogni tipo di sfumatura cromatica ad un valore di pH quindi ci consentono in base al confronto visivo del colore di fare una stima addirittura del pH della soluzione. L'indicatore esiste anche in forma liquida, vediamo l'immagine di questo esperimento in basso a destra e vediamo che assume tutti i possibili colori dell'arcobaleno quindi si tratta di una reazione molto coreografica. Abbiamo a sinistra l'acido forte, l'acido muriatico, una colorazione rossa viva con un acido debole come il succo di limone assume un colore arancione, l'acqua di rubinetto non è neutra ma leggermente acida viene colorata in giallo, una base debole come il bicarbonato di sodio si colora in verde, una base forte come la soda caustica che è presente vediamo qui dietro in forma di pasticche che si sciolgono in acqua assume una colorazione blu intensa. In basso a sinistra vediamo lo stesso esperimento ripetuto in un'aula scolastica con l'indicatore universale ma utilizzando soltanto sostanze non pericolose. Da sinistra a destra vediamo le colorazioni dell'indicatore in presenza di succo di limone, acqua di rubinetto, acqua e bicarbonato di sodio. Esistono per contro anche delle sostanze naturali che fungono da indicatore acido base, abbiamo visto il tè che in presenza di una sostanza acida come il succo di limone diventa giallo. Allo stesso modo se mettiamo in infusione le foglie di cavolo rosso otteniamo un liquido di colore viola intenso che come vedremo tra poco cambia colore e quindi diventa un indicatore universale addirittura di pH. Chiaramente dovremo creare un nuovo codice di colori perché è diverso da quello dell'indicatore universale. Anche in questo caso vediamo che anche l'indicatore al cavolo rosso in presenza di acidi, questo è acido solforico, assume una colorazione rossa intensa. In presenza di acido acetico assume una colorazione rosa, quindi l'acido debole ha una colorazione rosa quello forte di un colore rosso intenso. Qui abbiamo dell'acqua leggermente acida, quindi dell'acqua frizzante, vediamo con l'acido debole la soluzione da viola diventa di un rosa più pallido. Al centro rimane il colore viola della neutralità. Vediamo a destra che colori assume con le basi, vediamo che diventa azzurro in presenza di una base debole come il bicarbonato di sodio, pH tra 8 e 9. Vediamo in corrispondenza di una base ancora debole ma più forte come l'ammoniaca assume un colore verde carico, corrispondenza di un pH 12. Vediamo con la soda caustica una delle basi più forti che ci siano diventa inizialmente verde, dopodiché addirittura assume un colore giallo. pH 14 in questo caso corrisponde ad un colore giallo. Quindi abbiamo un altro esempio di indicatore acido base universale in cui però procedendo alla cosiddetta taratura con soluzioni già note a pH diverso otteniamo un nuovo codice di colori in corrispondenza ai diversi valori di pH.